Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess. Tra i vari campioni del mondo di cui non abbiamo ancora parlato c'è Alexander Aliakin. E allora perché non mostrarvi una delle sue partite più famose giocata a Sanremo nel 1930 contro Aaron Nimzovic. Tutti voi sicuramente conoscerete questo secondo giocatore in quanto autore del libro Il mio sistema e potete già intuire che si tratterà di qualcosa di più strategico questa volta. Infatti la partita è molto famosa perché ha dato vita a un nuovo tema strategico chiamato il cannone di Aliakin. Vediamo in che cosa consiste. E4 e6 abbiamo la nostra francese d4 e d5 cavallo c3. Come da consueto il bianco prosegue dopo alfiere b4 spingendo in e5 c5 e adesso arriva la prima mossa leggermente strana. Di solito il bianco preferisce dare fastidio all'alfiere in b4 interrogarlo come si dice ai neofiti con la mossa a3 e invece Aliakin ha preferito reagire all'inchiudatura del cavallo in c3 con la mossa alfiere d2 quindi schiodandosi direttamente in maniera non attiva come con a3 però con un'idea importante dietro cavallo e7 cavallo b5 la realizzazione del primo piano di Aliakin. Vuole cambiare gli alfieri delle case nere e dobbiamo dire che questo cambio strategicamente conviene a lui in modo tale da andare ad approfittare delle case deboli in territorio avversario come la casa d6. Alfiere per d2, donna per d2, il nero arrocca, c3 per consolidare il centro e qui arriva la prima imprecisione da parte del nero. Di solito è bene sviluppare tutti i pezzi in generale cavalli quindi cavallo bc6 sarebbe stata la mossa naturale e invece Nimzuic stupisce giocando b6. Chiaramente c'è un senso logico che è quello di provare a migliorare la posizione dell'alfiere in c8 che nella francese è risaputo essere il pezzo peggiore in quanto i suoi pedoni si trovano tutte su case chiare quindi tutti su case chiare è difficile che riesca ad avere una buona diagonale e il nero voleva metterlo in a6. Infatti f4, alfiere a6, cavallo f3, mosse di sviluppo, donna d7 che attacca il cavallo in b5 ed è importante consolidarlo con la spinta in a4. Il nero gioca finalmente cavallo bc6, è giunto il momento di sviluppare e arriva la prima mossa interessante da parte di Aliekin, b4. I giocatori di francese sia con il nero sia quelli che giocano contro con il bianco sapranno già che b4 è una mossa, un'idea che c'è sempre nella posizione per riuscire a dare fastidio al centro allargato, in particolare stiamo attaccando non la base della catena pedonale, ma la punta c5. Dopo b4 accade una cosa da notare, cioè c per b4, c per b4 e la colonna c si è aperta. Tutte le volte in cui nella posizione c'è una colonna aperta bisogna lottare per occuparla e questo lo diceva proprio Nizuic nel suo libro il mio sistema. Eppure in questa partita ne è stato una vittima. Alfiere b7, cavallo d6, il bianco riesce a realizzare il primo piano, dopo cavallo d6 arriva la seconda imprecisione da parte del nero. Probabilmente avrebbe dovuto giocare sull'ala di donna, per esempio con a5, costringendo il bianco a spingere a sua volta in b5 e avrebbe potuto mettere il cavallo in b4. Dopo alfiere d3 è probabile che il bianco stia leggermente meglio ugualmente, ma ancora con una partita tutta da giocare. Invece non è andata così, ma ha giocato f5. Perché è una mossa strana? Perché di solito nella francese il bianco tende a sviluppare il proprio gioco sull'ala di re e il nero sull'ala di donna. In questo caso è come se il bianco stesse giocando da solo su entrambi i lati e in maniera concreta la spinta in f5 non para la minaccia di a5, che è una mossa molto forte. Per quale motivo? Adesso su b per a5, che non è stata giocata, ci sarebbe ugualmente la spinta in b5, cavallo d8 e torre per a5. Il bianco sta bene perché tutti i suoi pezzi sono messi bene, il re è ancora al centro, ma ci prepareremo ad arroccare sviluppando prima l'alfiere in f1, probabilmente lo metteremo in d3. La colonna a è una colonna semi aperta e il pedone in a7 è un pedone debole che riusciremo sicuramente ad attaccare. Dunque non è andata così la partita, ma al posto di catturare in a5, il nero gioca cavallo c8, un errore tira l'altro. Cavallo c8 è una mossa passiva, una mossa difensiva e ci sta sicuramente che il nero fosse nella modalità difensiva, ma in questo caso non funziona, perché immediatamente arriva cavallo per b7. È una mossa particolare perché abbiamo detto che l'alfiere delle case chiare in b7, l'alfiere del nero, era un pezzo cattivo, il classico alfiere cattivo contro il cavallo buono in d6 e allora perché andiamo a cambiarlo? Concretamente dopo donna per b7 a6, il nero non ha più mossi, comincia a essere dominato completamente. Donna f7 è il fatto che non abbiamo spinto in b5, comporta che la casa sia ancora libera, per quale pezzo? proprio per il nostro alfiere che va in b5. È necessario difendersi con cavallo 8 e 7, finalmente a mossa 19 è giunto il momento di arroccare. Di solito lo si fa prima, in questo caso essendo la posizione chiusa non c'erano grossi pericoli. Dopo arrocco h6, ecco che comincia il famoso piano del cannone di aliechi, in che cosa consiste? Abbiamo detto abbiamo la colonna aperta, la vogliamo occupare e quindi prima mossa torre fc1. A sua volta il nero gioca torre fc8 e adesso torre c2 con l'idea di andare a raddoppiare con torre ac1. Il nero ha giocato donna e 8, che è una mossa che può sembrare strana perché si auto inchioda il cavallo in c6, però vuole andare a difendere perché il cavallo non può essere difeso da nessun pedone e quindi i suoi pezzi devono andare a proteggerlo. Tutto questo nasce dalla mossa b6, che abbiamo detto prima essere un'imprecisione. Torre ac1, il bianco prosegue in maniera lineare, torre ab8 e qui un'altra mossa importante, ovvero donna e3. Qual è il senso di donna e3? Ricordate, se avete una colonna aperta, oltre a raddoppiare potete pensare di triplicare, quindi mettere tutti e tre i vostri pezzi pesanti. Di solito appunto le colonne si occupano con i pezzi pesanti, le torre si trovano già sulla colonna c. In che modo mettere la donna? Potevamo pensare a una mossa come donna c3, per esempio, ma non è forte avere la donna davanti e le torre dietro. Esattamente il contrario, dunque con la mossa donna e3 si prepara il piano, torre c7, torre c3, donna d7 e adesso la mossa è torre 1 c2, per liberare la casa c1 per la nostra donna. È proprio come è andata la partita, re f8, donna c1. Spettacolare! Questa volta, come vi dicevo, è una partita completamente diversa, perché abbiamo visto dei sacrifici finora, partite brillanti, mosse incredibili, ma anche questo piano lo è. Lo è perché la spettacolarità non sta soltanto nei sacrifici, ma anche nella dominazione e qui il bianco domina completamente la scacchiera. L'avversario è spacciato e schiacciato dall'ottima posizione di tutti i pezzi pesanti del bianco. Adesso si fa un sacco di pressione sul cavallo in c6, dunque il nero è praticamente costretto a giocare torre bc8. La cosa curiosa è che il bianco alla fine ha fatto delle mosse che tutti noi possiamo pensare. Qui non è nulla di impossibile, ma è stato il primo a inventare il pattern, il modello del cannone. Un cannone perché tutti i suoi pezzi puntano e sono pronti a sparare sulla colonna c. Dopo torre bc8, alfiere a4, anche questa molto bella secondo me. L'idea è quella di andare a spingere in b5 e approfittare delle torri in c7 e in c8 che diventeranno sospese. Infatti preso dalla paura, il nero spinge lui in b5, prova il tutto e per tutto, ma ormai non c'è più nulla da fare, capisce di essere spacciato dopo alfiere per b5 e arriviamo quasi ad una posizione letale. È incredibile pensare che qui siamo a mossa 28 e in due mosse il nero ha abbandonato. Vediamo come. Alfiere per b5, le minacce sono sempre le stesse, stiamo facendo pressione sul cavallo in c6. Il nero gioca re e8 con l'idea, dopo alfiere a4 sempre fatta per spingere in b5 e poi andarsi a mangiare una torre in c7. L'idea del nero dice però quella di fare re e di 8 per difendersi. E adesso la mossa finale della partita, che non c'entra niente con la colonna c, con l'ala di donna, quindi dove stavamo andando a giocare. Aliekin gioca h4 e Nimzovic abbandona. Per quale motivo Nimzovic abbandona in questa posizione? Perché è in Zuzwang. Dal tedesco vuol dire che qualsiasi mossa il nero giochi, ovviamente uno dei due giocatori non sempre il nero ma quello che si trova in Zuzwang, lo porterà ad una sconfitta in poche mosse. Infatti dopo dopo h4 la domanda non è che cosa vuole fare il bianco, ma che mosse ha il nero? Perché la risposta è no ne ha. Vediamo per esempio su cavallo per b4, semplicemente alfiere per d7, ci mangiamo una donna e il nero potrebbe abbandonare appunto. Che cosa fare al posto di cavallo per b4? Se ritorna con il re in e8 per esempio, prova a muovere il re, a questo punto vediamo la realizzazione della minaccia che è la spinta in b5, cavallo b8 e torre per c7. Quindi il cavallo era inchiodato, inchiodato non solo rispetto alla donna in d7, quindi in maniera diagonale, ma anche verticalmente sulla colonna c perché adesso dopo torre per c7 il bianco guadagna una torre e quindi la partita finirebbe anche se è già finita. Dunque non si può fare nemmeno il re e8, non si può spostare il re, abbiamo capito qual è la minaccia del bianco, ovvero b5 dato che ha messo tutti i pezzi per riuscire a spingere e adesso beh re e8 l'abbiamo esclusa, cavallo per b4 l'abbiamo esclusa, proviamo a muovere l'altro cavallo, ma il cavallo in e7 che si sposta non protegge più quello in c6, quindi alfiere per c6 si guadagna un pezzo. Abbiamo provato a spostare tutti i pezzi e non si poteva fare. Che cosa succede se il nero spinge un pedone? Il bianco ovviamente può continuare a migliorare la posizione, si può anche non fare una cosa super immediata ma migliorare per esempio con torre c5 e su una mossa come i donna e8 arriva sempre b5 che è la mossa chiave. Su cavallo b4 torre per c7 è vero il nero può fare cavallo per c2 ma dopo torre per c2 semplicemente il bianco ha un pezzo di vantaggio e dunque è finita così la partita mi sembra veramente in maniera molto lineare Aliekin è stato bravissimo e da qui come vi dicevo nasce il cosiddetto cannone di Aliekin. In realtà se andate a vedere probabilmente prima del 1930 qualcun altro aveva pensato all'idea di andare a triplicare su una colonna aperta però lui è considerato appunto il primo e dunque nella nostra posizione dopo donna c1 è pronto a sparare. Abbiamo imparato un sacco di cose dal punto di vista dal punto di vista strategico Aliekin era un giocatore veramente forte poi se se non sapete come è morto è normale facciamo anche un po di curiosità scacchistiche andatevi a cercare la storia di Aliekin perché non è ben chiaro si cela un mistero dietro alla alla sua morte. Spero che questa partita vi sia piaciuta stiamo proseguendo con la playlist partite brillanti spettacolari dei grandi campioni quindi ce ne saranno come sempre delle altre però sono contenta di aver scelto qualcosa di diverso per uscire dalla mia comfort zone tattica aggressiva e anche da tutto ciò che avevate visto finora per analizzare insieme un po di medio gioco visto che che lo avevate richiesto in in tanti. Grazie mille per essere stati con noi scrivete commentate se la partita vi è piaciuta e quali sono i prossimi giocatori che vorreste vedere con le loro partite immortali e ci vediamo prestissimo da Titan Chess Grazie mille per la visione! Grazie mille per la visione!